Salve, siamo qui oggi con Daniel, Karina e Alex, sono dei membri laici della chiesa del nord della Germania e insieme stanno organizzando qualcosa di particolare, si chiama AYC e ora gli chiediamo di che cosa si tratta, ma prima vi voglio dire qualcosa su di loro, su chi sono. Alex lavora per la Volkswagen, Daniel lavora per la Volkswagen, Karina e Alex sono due studenti, si sono messi insieme perché credono in qualche cosa, questo AYC. Karina, can you tell us what AYC stands for? Karina, ci puoi dire che cosa vuol dire AYC, per favore? AYC stands for ATS Youth Congress AYC significa Congresso Adventista dei Giovani What is all about, what is the topic of this Congress? Che cos'è, di che cosa si tratta, che cos'è questo AYC, qual è il tema di questo congresso? Yeah, really good question. AYC it's about inspiration, it's about teaching, it's about preaching, it's about outreach. Grazie, è una bella domanda. AYC riguarda l'insegnamento, la predicazione e l'evangelizzazione. Ok, and you see, AYC is actually all about revival and that's our theme, the theme is revive us again and revival is that what we need now and what we need in the northern part of Germany. Il tema riguarda il risveglio, infatti il nostro tema è risvegliaci tutti quanti di nuovo e noi abbiamo bisogno oggi di risveglio e per questo che parleremo di questo argomento. Daniel, when is the Congress going on and how can we apply for, how can the Italian come up there? Daniele, quando si terrà questo congresso, come ci si può iscrivere, cosa devono fare gli italiani per venire se vogliono partecipare? Ok, we want as many Italians to come as possible. It's going to be in October 25 to 28 and you can apply at atsyouthcongress.de Noi vorremmo avere più italiani possibile e ci farà piacere se si iscrivono, il congresso sarà a fine ottobre, can you repeat the dates? 25 to 28. Dal 25 al 28 di ottobre di quest'anno e per iscriversi basta che andate sul sito www.atsyouthcongress.de Karina, chi saranno gli ospiti di questo congresso, i principali predicatori? Karina, who will be the speakers, the main speakers of this congress? Justin Kim is one of the main speakers and also Chris Berger, I think you should know him because his wife is Italian. I principali predicatori saranno Justin Kim e Chris Berger e penso che voi conosciate Chris Berger perché sua moglie è italiana. Grazie ragazzi, sicuramente farà piacere agli italiani sapere di questo convegno e speriamo di rivederci tutti quanti da voi in Germania. Grazie a tutti.